Mi sono trovato bene anche come location, diciamo come ambiente abbastanza ampio. Solitamente sono dei locali dove lavorare, si fanno fatica tremenda anche per la mancanza di spazio e così via. I ragazzi mi sono trovato bene, sono stato veramente contento e speriamo di rivederti ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.